ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi voglio parlare di questo piccolino che è un miracolo in forma di cilindro perché è il depuff di estetista cinica vera lab allora intanto cos'è è un contorno occhi ma devo mostrarvi prima di tutto il pec cioè guardatelo è triangolare delizioso sui toni del rosa fucsi è delizioso ma adesso vi mostro anche l'interno perché è questo qui pec semplicissimo bianco con scritta fucsia vera lab depuff siero per borse occhiaie roll on effetto tensore è un 10 ml prezzo 19 euro e dice di essere un e quindi plastica rigenerato cosa importantissima allora vera lab chi non conosce l'estetista cinica può essere che non conoscete nel caso rimediate perché fa dei prodotti fantastici è competente in quello che crea perché è un estetista davvero è competente e fa dei prodotti ottimi oltretutto è di brescia quindi una persona che mi piace sostenere made in italy prodotti ottimi anche dal punto di vista dell'inci perché esatto e quattro stelline su cinque davvero un prodotto ottimo dal punto di vista dell'inci e oltretutto paghi la qualità del prodotto perché il pec è sempre semplicissimo in questo caso si tratta di un roll on per il contorno occhi anche qui è semplicissimo ma è la qualità del prodotto che dobbiamo andare a pagare non tanto il pec quindi prodotto roll on per il contorno occhi che abbiamo letto che promette di essere un siero per borse occhiaie effetto tensore allora intanto vi faccio vedere la clip così vedete anche la texture del prodotto e devo ricordarvi una cosa che devo dire assolutamente se non lo sapete già è provare che dopo un po di applicazioni il prodotto sul viso sull'occhio inizia a scendere male e scende di nuovo quindi semplicissimo da fare questo applicatore in quella pallina è fresco cioè è proprio fantastico soprattutto per chi ha borse chi ha gli occhiaie lo sa benissimo che quelli con il roll sono i migliori mettetelo in frigo per un effetto ancora più decongestionante applicato alla dunque prima io voglio vedere la texture perché la texture l'avete visto da clip ma è leggera fluida proprio basta pochissimo prodotto qualche passata assorbe immediatamente ottimo anche come base trucco davvero fantastico potere idratante alto non sembra perché leggerissimo ma un ottimo potere idratante cioè davvero lo sentite più più compatto più idratato più 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 poi nella stagione fredda sì buonanotte nella stagione calda mettetelo in frigo per un effetto freddo che alla mattina davvero è una goduria ve lo garantisco va a decongestionare immediatamente le bolse e le occhiaie ed è proprio si riducono visibilmente poi e non da problemi con il trucco quindi si asciuga ma non me ne fa durare come sempre non lo va a contrastare durante il periodo dell'allergia quando sapete allergia di primavera col contorno occhi che gonfio mi danno fastidio agli occhi lo togliete dal frigo così già rinfresca e allevia se poi arrossato chiudete l'occhio lo applicate anche sopra e guardate non va a intaccare il trucco cioè non lo va a intaccare quindi avete un effetto che piace ma quando avete allergia piace davvero tanto e non va neanche intaccarvi il trucco quindi ottimo fantastico alla sera ed è magari tutto il giorno che siamo al pc abbiamo un contorno occhi che è stanco oppure siamo stati fuori tra vento o sole va ad adattare va a decongestionare c'è davvero ottimo io mi sono trovata benissimo e lo ricompro io sicuramente questo lo ricompro normalmente aspetto i momenti in cui con le promozioni vi consiglio di seguire su instagram sia l'estetista sinica che proprio loro il vero lab perché spesso mettono dei codici promozionali oppure le spedizioni gratuite ecco io con uno o l'altro ne approfitto e questo lo ricompro perché mi sono trovata davvero benissimo e da grande portatrice d'occhiaie un prodotto così per me è il massimo sicuro poi soprattutto in questo periodo cerco di promuovere Made in Italy chi viene da una situazione come Brescia cerco di aiutarla e poi vi consiglio di imparare la storia dell'estetista sinica perché davvero per i suoi dipendenti ha fatto tanto mi piace come impenditrice è un'impenditrice quindi comunque sia deve guadagnarci però si è data da fare durante la quarantena si è data da fare con le storie ha fatto delle dirette con tutte le persone possibili ci ha tenuto compagnia e tiene alla sicurezza dei suoi dipendenti è un'impenditrice che ovviamente deve vendere deve guadagnare ma che è rimasta umana ha il contatto con le persone è ancora umano e questo è un punto in più per cui io voglio scegliere i suoi prodotti e consigliare i suoi prodotti se sono validi ma questo davvero è valido alla faccia se è valido e perché sì mi sento di aiutare chi se lo merita ecco in questo caso estetista cinica è il vera lab perché davvero merita e niente se siete arrivati a questo punto del video c'era qualcosa che passava davanti alla telecamera vi ricordo come sempre che se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me dovete mettere un commentino qui sotto nel video e vi chiedo in questo caso se avete provato questo prodotto il depuff oppure se conoscete l'estetista cinica il marchio vera lab se lo conoscete adesso oppure se lo conoscevate già se avete provato altri prodotti fatemi sapere parliamo di questo marchio e di depuff in particolare dovete essere iscritti al mio canale e basta essere attive io premio le persone attive che mi aiutano e mi sostengono quindi l'estrazione mensile di un piccolo premio se non è questo mese ma siete attive è il mese prossimo è quello dopo ma comunque vi vedo vedo voi quelli che siete sempre attivi e verrete sicuramente premiate avete pazienza state costanti e verrete premiate ed io vi do appuntamento a questo punto col prossimo video e stringo qui perché sto parlando troppo alla prossima ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao